In occasione delle celebrazioni del centenario della nascita di Don Luigi Giussani, il Centro di Solidarietà Il Faro, in collaborazione con il Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere, porterà a conoscenza della città di Pesero le vicende di dramma e di coraggio di alcune donne ugandesi legate al percorso dello stesso Don Giussani. Una storia che diventa una mostra dal titolo Tu sei un valore, le donne di Rose, mostra che sarà ospitata negli spazi della Chiesa della Maddalena da martedì 18 a domenica 23 ottobre. Una mostra che porteremo in occasione del centenario della nascita di Don Luigi Giussani, perché l'incontro di questa donna, le donne di Rose, il sottotitolo di questa mostra, questa donna ha incontrato Don Giussani che le ha cambiato il cuore, ha capito il suo valore e da lì Poi lei tornando in Uganda ha incontrato queste donne malate di EDS che sono state rapite dai guerriglieri e che poi rinascono perché ricapiscono il valore che hanno. Quindi grazie a questo cuore cambiato di Rose cambia anche il cuore di tutte queste donne, cambia un popolo, sono tantissime, sono rinate. È la storia di una rinascita incredibile. Nella mostra ci saranno sia pannelli sia video, quindi è molto bella perché ci sono le immagini di queste donne e ci saranno anche dei video perché poi c'è la storia bella perché queste donne che rinascono chiedono poi di costruire anche una scuola invece di costruire un ospedale per loro che sono malate e questa è una grande novità che strabiglia la stessa Rose perché lei è una infermiera la Rose e quindi già questa cosa strabiglia perché loro dicono no, noi vogliamo che i nostri figli siano guardati come siamo guardati noi e quindi vogliamo una scuola e loro dicono ma io non ho i soldi e allora loro dicono ci pensiamo noi, vediamo, loro spaccano sassi e quindi fanno le collane, una collana questa è una delle loro collane, ne fanno migliaia e migliaia e vendendole un po' in tutto il mondo attraverso AVSI, questa associazione dei volontari di servizio internazionale, riescono a raccogliere fondi per costruire la scuola. Adesso c'è una scuola bellissima, sono due scuole sia una primaria che una superiore ci sarà la presentazione mercoledì 19 alle 18.30 a Palazzo Montagnataldi dove noi in videocollegamento potremo conoscere la Rose, questa donna che ha incontrato queste donne africane e anche lei è una di Campala e quindi potremo sentire dalla sua viva voce il cambiamento, quello che è successo a lei, quello che è successo alle sue donne.